Grazie alla Condello, si chiude un anno questo lato di successi per l'AIRC, parliamo del 2016, ma è chiaro che i propositi per l'anno nuovo sono ancora importanti, perché voi lavorate sul territorio oramai da tanti anni e i risultati finora sono stati conseguiti. Noi lavoriamo da oltre 25 anni, come ben sa. I risultati per il 2016, devo dire che nonostante le crisi economiche che attanagliano anche la nostra città, sono positive. Abbiamo raccolto fondi per circa 24.000 euro, compresa l'ultima raccolta dei cioccolatini, grazie ai club service che ci hanno dato una mano, a delle imprese, l'ASCOT per esempio ci ha dato una grande mano d'aiuto, e anche ad associazioni come quello di Entimo e d'Antifemo, che organizzando questo evento al carcere ha fatto anche una raccolta fondi che è devoluta ai LAIRC. Quindi in memoria abbiamo avuto pure circa 500 euro, e così abbiamo raccolto 24.021 euro. Questa è una grande soddisfazione, perché è vero che lavoriamo, però i risultati ci sono, la ricerca va avanti, Gela è fra le città anche che contribuisce in maniera, diciamo, congro. E quindi siamo contenti di questo risultato. Anche perché poi quando si parla di solidarietà, Gela è sempre in prima fila. Sì, questo è senza dubbio ed è qualcosa che ci tocca particolarmente. Dicevo che nonostante la crisi, la gente è sempre sensibile alle manifestazioni di solidarietà. E quindi grazie alla città di Gela, grazie a tutte le socie, grazie alle mie amiche, che anche loro si prodigano tanto per raccogliere fondi, perché sappiamo che l'AIRC con questi fondi sostiene la ricerca, ma soprattutto i ricercatori che hanno la loro continuità nel programmare una ricerca scientifica. Questo è importante. E alla fine del 2016, l'anno che ci ha appena lasciato, è arrivato per lei un bel regalo, un nuovo incarico. È arrivato personalmente a me perché rappresento la delegazione di Gela. Sono stata proposta dal presidente regionale al Consiglio nazionale come consigliera, quindi farò parte del Consiglio regionale della Sicilia, naturalmente. Questo è qualcosa che gratifica non me personalmente, ma tutta la delegazione. Quindi io voglio fare un appello ai giovani, voglio fare un appello alle signore di avvicinarsi all'AIRC, ai giovani, perché abbiamo bisogno di giovani nella nostra associazione. Ci sono dei crediti, soprattutto per chi vuole intraprendere questa carriera di medicina, e darci una mano d'aiuto. Non c'è tanto da lavorare, non c'è quota da pagare, però abbiamo bisogno di linfa giovane. Noi ormai i quarantenni siamo arrivati a 60 e oltre, perciò dobbiamo passare anche il testimone ai giovani.